Il parco pubblico in via Taverna è versa in condizioni di degrado e spesso non ha risparmiato critiche da parte dei numerosi cittadini. Il verde pubblico è abbandonato a se stesso, diverse giostrine sono rotte, la pavimentazione è sconnessa e insomma un intervento serio utilizzando al meglio gli spazi porterebbe ad un rilancio dell'aria sotto ogni punto di vista. Centro di aggregazione sociale per le famiglie, da sempre il parco pubblico è di fondamentale importanza per il gioco all'aria aperta, per il tempo libero dei più piccini ma anche svago il ritrovo di persone anziane e di famiglie. Da Palazzo di Città nel mese di febbraio è stata annunciata una riqualificazione dell'aria ma ad oggi il parco non ha subito modifiche. Si è pensato alla creazione di speciali percorsi e l'installazione di giochi e attrezzature varie idonee ad essere utilizzati da parte di bambini normodotati e con disabilità ai fini sociali e integrativi. È stato però annunciato qualche giorno fa dal primo cittadino Coppola che grazie alle economie risparmiate con la realizzazione dei lavori in piazza Mediterraneo si potrà dare maggiore dignità al parco pubblico. Il parco in via Taverne rappresenta infatti da sempre un'importante realtà aggregativa per la città e l'amministrazione punta a favorire l'utilizzo dello spazio ai fini della socializzazione. Sì oggi annunceremo proprio una riqualificazione anche dell'aria del parco pubblico che non è più fruibile come prima dalle famiglie per il gioco dei bambini. Nelle prossime settimane varrà riadeguata l'aria, acquistate nuove giustrine per rendere ancora di più fruibile tutta l'aria che quindi sarà tutt'uno utilizzabile come ho detto a 360 gradi e certamente però l'attenzione che dobbiamo dare ai nostri figli deve essere maggiore per questo motivo in breve tempo riussolveremo anche questo.